Buongiorno, ben ritrovati, la rassegna stampa, occhio ai giornali alle 7.30, come sempre apre la nostra giornata, le nostre trasmissioni, noi siamo pronti con l'ausilio del nostro touchscreen, vedremo le pagine dei giornali, dei quotidiani che troveremo in edicola questa mattina e le notizie principali, ma procediamo con ordine, guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi giovedì 19 maggio, San Pietro Celestino Eremita, il sole è sorto alle 5.37 e tramonterà alle 20.33, previsioni del tempo, per queste due giornate di giovedì e di venerdì, è prevista una perturbazione in transito qui sull'Italia dal nord Europa che interesserà anche la nostra regione con condizioni di maltempo e allora guardiamolo questo maltempo per oggi, giovedì, appunto vedete la simbologia grafica eloquente, piogge con fulmini e anche quindi precipitazioni sparse nelle ore centrali della giornata, anche a carattere di rovescio e temporale, per domani venerdì cielo molto nuvoloso al mattino con nuvolosità in rapida attunazione nel corso del mattino, sereno, poco più nuvoloso nel pomeriggio, quindi nel pomeriggio di domani ci sarà un miglioramento perlomeno nella nostra zona, come vedete invece sui rilievi e nella zona bassa delle Marche persiste la nuvolosità e la pioggia. Previsioni per sabato, primo giorno del fine settimana all'insegna del bello e dello stazionario, possiamo dire, quindi senza precipitazioni, queste insomma sono le evoluzioni di queste prossime 48 ore. Allora, partiamo con i giornali, iniziamo dal Corriere Adriatico di Fano, un po' tutte le pagine e gli inserti della città di Fano trattano di questo e lo vediamo subito, apriamo, ecco, a centropagina la carnevalesca e le sue votazioni. L'ora della svolta, Cecchini pensa di lasciare ma il presidente uscente ha fatto crescere il carnevale, competenze da integrare con nuovi contenuti. Nell'articolo di Lorenzo Furlani l'esito delle elezioni ha riscattato i carristi da un'annosa sudditanza nell'allestimento dell'evento e poi presa di coscienza partita dal progetto di rilancio di Sorcinelli riprodotto nel programma di Pacassoni. Questo in sintesi temi dell'articolo in testa di pagina, però Cecchini ha affidato a Facebook, ai social network il suo sfogo dopo tutti questi anni in cui ha lavorato per far crescere il carnevale, dice mi sento molto offeso, il mio ciclo è finito, non sono un buffone e insomma nell'articolo leggerete tutte le sue considerazioni virgolettate perché insomma c'è stata un'assemblea molto combattuta, insomma se lo andate a leggere il commento di Cecchini su Facebook, insomma vedrete di che cosa si lamenta. Andiamo a Senigallia perché domani passerà una corsa storica, una rivocazione di una corsa storica, la Mille Miglia che insomma proviene da Nord e è a rischio caos per quanto riguarda Senigallia perché c'è la spada di Damocle dello sciopero della Municipale, degli agenti della Polizia Locale, molti agenti rinunciano e quindi sono attese veramente tante auto, oltre 450 iscritti e poi ci sarà anche un concorso per aspiranti vigili urbani, oltre 1174 gli aspiranti, insomma è una giornata calda domani e dopodomani per Senigallia e quindi insomma il rischio è che tutto vada un po' a pallino per questa concomitanza di cose. Momenti di paura, in via Marche una strada vicino all'autostrada di Senigallia, un cinghiale a spasso per la strada, lo vedete in questa foto, cerchiamo di ingrandire per farvela vedere, vedete è proprio beatamente a passeggio, insomma di sera, come se fosse un turista qualsiasi, ma insomma non è proprio un animale estremamente mansueto, quindi chi se lo deve essere incontrato davanti o vicino non è che gli ha fatto cosa molto gradita. Andiamo a Pesaro, nella pagina appunto del Corriere Adriatico che riguarda Pesaro, bilancio, è stato tracciato un bilancio, lo troveremo anche in altre pagine, in prefettura, crescono estorsioni, rapine e furti in auto. Questa è una foto di quello che è stato presentato, in calo le razzie nelle case e il prefetto Pizzi presenta i dati e il vademecum sulla sicurezza, consigli per gli acquisti come si dice. E quindi insomma dopo vedremo anche nelle pagine del resto del Carlino qualche indicazione che lui dà. Andiamo nel messaggero, nella pagina di apertura dell'inserto locale, in testa si parla di lavoro e di imprese, Bucciarelli la ripresa c'è, parla Confindustria, il presidente regionale dice la fiducia delle imprese è al top, l'analisi crescono il mercato interno ed export resta il problema però dell'occupazione e quindi l'export è sempre stato un aspetto trainante per le aziende dopo la crisi del 2009-2010, le aziende che hanno superato questo momento di impasso lo devono anche grazie all'export che li ha tenute a galla. Però questo aumento e questa ripresa non corrisponde con un aumento dell'occupazione, quindi non ci sono sul fronte dell'occupazione e del lavoro novità in questo senso. Dovrebbe invece essere anche questo un fattore di ripresa in questo momento. Allora, poi fotonotizia, tutto in fila per il casting, oltre 200 persone per la fiction di Lucia Annibali e poi un malore prima dell'udienza, un imputato è stato portato in ospedale, era in attesa di partecipare all'udienza, il processo è stato rinviato per legittimo impedimento e poi demolito, siamo a Fano, sulla Renile, demolito il capanno abusivo nell'area di Baia del Re, a Lupus in Fabo, l'associazione dice bene il Comune di Fano, ma ora devono essere abbattute altre strutture non autorizzate. Bucciarelli, la ripresa, vedete nella pagina di Pesaro, troverete tutto l'articolo che parla appunto di questo momento, sì, delle aziende con tutti i numeri, con tutte le percentuali e poi in basso però un articolo che riguarda l'ex governatore della Regione Marca spacca e il processo per le spese pazze, gli vengono contestati pranzi, cene, acquisti, insomma un totale di oltre 10.000 euro e quindi la Corte dei Conti presenta questo conto, diciamo così, all'ex governatore tramite il procuratore generale Maurizio Mirabella nella prima delle 26 udienze per danno erariale sulle spese pazze ai gruppi consigliari in regione ma l'estate si avvicina, c'è naturalmente l'aumento delle temperature, siamo a maggio, a giugno è quasi estate andata, però le spiagge non sono a posto, allora che cosa fanno? I bagnini pensano di mettere mano alla tasca propria e sistemare la renile, ripascimento, i fondi potrebbero arrivare troppo tardi, gli operatori di Levante sborseranno di tasca propria i soldi disponibili pure quelli di Ponente e di Sottomonte a giorni intervento che va da Viale Trieste fino all'Ardizio, questa è una foto però dell'anno scorso che ritrae appunto le ruspe in spiaggia. Maltempo arrivano i contributi, i danni del Maltempo arrivano i contributi per la copertura del Tribunale e la strada franata di Fiorenzuola. Continuiamo nelle pagine del messaggero di Pesaro, appunto il prefetto reati in calo ma insomma pronti comunque a chiedere rinforzi, questo è il suo messaggio appunto presentato il Vatemecum con consigli contro infurti e il potenziamento della polizia nel momento appunto estivo e poi qualcuno se lo ricorderà, un ragazzo Marco Bonaposta fu trovato morto nel parco su una panchina, parco Miralfiore, dopo una notte passata alla diaccio per un infarto, il comune ha ascoltato l'appello della mamma, di sua madre che chiedeva appunto una scultura per ricordare Rocco e questo avverrà, il comune ha detto sì alla mamma, l'opera raffigurerà un uomo seduto e riporterà una frase di Bonaposta. Bene, ancora dalle pagine del messaggero si parla di sanità, della manifestazione che c'è stata a Fosso Seiore, ora dopo quel momento, quell'evento, gli anti Fosso Seiore vanno a caccia di alleati, ospedale unico, gli ambientalisti non si arrendono, cercano una sponda nei sindacati e nelle aree interne, ma si guarda anche alle file della minoranza PD, dopo Giovannelli anche Bellucci è critico, Balducci scusate, è critico verso il sito, che cosa dice Balducci? L'ex presidente del parco del San Bartolo dice si tratta di una scelta insostenibile, appunto l'ospedale a Fosso Seiore dal punto di vista sicuramente ambientale e non. Vi dicevo, le pagine di Fano sono intrise della carnevalesca e quindi anche il messaggero non poteva fare altrimenti, Cecchini si sfoga ed è tentato dal passo indietro, penso di lasciare il posto al primo dei non eletti, ma rimarrò comunque socio. Una frecciata alla lista di pacassoni, ora si prendono le loro responsabilità, come dire, avete avuto la bicicletta pedalata, telecamere contro i furbetti, dei rifiuti, le telecamere sorveglieranno 16 isole ecologiche, ma non solo, sono telecamere itineranti e saranno da monito per quelli che tentano di sversare qualsiasi cosa vicino alle isole ecologiche in maniera appunto in propria, multesalate dai 50 euro in su, ma anche di più nel caso si tratti di aziende che fanno questi sversamenti, quindi non privati. Poi l'Isipo depositata al tramole di memorie e spropi poi a Tombaccia, in piedi di pagina, sarà faccia a faccia e quindi complanare i funzionari di società autostrade incontrano i residenti della Tombaccia. Speriamo che questo avvenga anche per altre zone che sono comunque, come avete visto e sentito in questi giorni, non appostissimo dal punto di vista dell'umore dei suoi abitanti. Pesaro, siamo al resto del Carlino, la pagina di apertura dell'inserto, anche qui fotonotizia gigante per gli aspiranti attori o comparse, oltre più 100 aspiranti, età mista dai 25 ai 55 anni, appunto per la Fission su Lucia Annibali che verrà interpretata da Lucia Capotondi. E poi, insomma, vede il marito, una di cronaca con l'amante, inseguita col coltello, è accaduto a Urbino, l'uomo non ha gradito l'intrusione della moglie e quindi è stato arrestato. Andiamo a vedere le pagine interne, insomma, il vademecum del prefetto, da qualche pillola di saggezza, una di queste è questa, appunto, non dite su Facebook che siete in ferie, quindi non postate foto, non dite dove siete, quanto ci rimanete, insomma, perché se vi monitorizzano sanno cosa fate e dove siete. Presentato il vademecum contro i furti e soprattutto quelli che riguardano le case, perché si sa, d'estate, appunto, per l'assenza dei proprietari o degli abitanti delle stesse, i ladri si scatenano. In controtendenza i dati, si delinque meno, però si rapina di più, come vedete. Allarme rosso, crescono le rapine, le estorsioni, ma anche i danneggiamenti alle proprietà private. Ancora la pagina di Peso, si parla di sanità, però siamo in ambito regionale, a parlare è Fabrizio Volpini, il presidente della Commissione regionale della sanità, che cosa dice? Volpini, i sindacati, cantilena sterile, ma il comitato contro forso sei ore, rilancia, pronti a tutto. La regione, appunto, per voce di Volpini, risponde alle critiche di CCL, CISL e UIL. Ci aspettiamo, dice lo stesso presidente, una partecipazione corale per realizzare quelle riforme spesso annunciate e mai attuate. La pagina di Fano, come vi dicevo, anche qui, idem con Patate, Cecchini, predomina il duello nell'ente carnevalesca, addio di Cecchini, lascio il posto sfogo su Facebook e partono naturalmente le prime reazioni. E poi Stefano Fucili, cantautore locale, fanese, che ha collaborato con Lucio Dalla in passato, insomma, un suo fautore delle sue canzoni, va in tour nei Paesi Bassi dopo aver fatto un spot televisivo per un marchio di gioielli che è andato in onda molto in Olanda e quindi è partito il suo tour. Bene, gli facciamo un grande in bocca al lupo e è sempre bello quando un fanese o quando Fano viene portata oltre il confine per motivi anche naturalmente artistici e non di cronaca. Le altre pagine di Fano, si parla di Aset, della fusione, i nodi della città, uno e questo, trappelano le prime indiscrezioni nell'articolo di Anna Marchetti, si trovano tutti gli scenari possibili e che si possono prospettare all'orizzonte, alla luce di questa fusione. Anche qui caccia ai furbetti, video sorveglianza, telecamere nei punti di raccorta. Tax Force, come vedete, Aset, corpo di polizia locale e comune, tutti uniti contro questa brutta pagina di civiltà che alle volte si manifesta vicino le isole ecologiche. Vi lascio con un'ultima notizia, lo conoscete tutti, si chiama Ottaviani ed eccolo qui, è il nonnino dei record perché spegne le sue prime cento candeline, taglia uno dei tanti traguardi mirabolanti di questo nonnino super, è andato anche a Sanremo con la sua ricetta e quindi Sant'Ippolito in festa e addirittura gli è stato dedicato perfino un meeting di atletica ad Ancona nella giornata appunto di domani. La Federazione Italiana di Atletica ha istituito l'Ottaviani Day dove lui correrà il Super Master Metaurense nei 60 e nei 200 metri piani. Bene, che dire, prendiamo esempio da lui la sua ricettina, insomma l'insalata, vabbè, speriamo che anche a noi funzioni e quindi tantissimi auguri Ottaviani per i tuoi cento anni, è stato sempre qui anche con noi in svariate occasioni, auguri e questo è tutto. Bene, vi auguro buona giornata, questa sera occhio alla notizia, noi ci rivediamo con Missione Salute, la rassegna stampa torna domattina alle 7.30 puntualmente. Buona giornata. Grazie a tutti.